Il rimbalzo di Foster che proprio nel rimbalzo ha il numero migliore del repertorio Poi arriva Reggie Miller, prende incredibile, fantastico giocatore La zona intanto con i raddoppi dei Dallas Mavis che vogliono alzare il ritmo di questa partita Jonathan Bender, 3 Miller, quella prima opzione avversaria Esatto, non uno che in difesa si riposi necessariamente Badigliando, recentemente a Chicago la prima doppia doppia della sua carriera Mentre qui vediamo perché Tinsley ha 15 anni Ogni schiacciata tornando indietro si faceva una risata E parlava il cinese che dubito capisca lo slang Palla fuori per Tinsley Poi Miller ancora per Tinsley Buona circolazione, è entrato anche Austin Crozier Steve Nash schiaccia per terra per Philly La palla torna fuori, Nash prende il tiro Che buonissimo, ben rimbalzo di Johan Howard Poi normalmente cerca di fare un assist in qualsiasi momento Appena superata la linea di metà campo E questo non rimout guarda i suoi con un po' di disprezzo Spettacolosa palla di The Abuser Due mani dal petto Non può esserci fallo tecnico Quindi è un fallo antisportivo Ripare un soffatto Il pick and roll che non viene giocato da Tinsley Che va dall'altra parte Poi scarica per Foster Peggio è la decisione che mi sembra corretta Perché quella palla ha sostato troppo sulla manca Ma invece arriva la palla persa Per i Dallas Mers Che adesso stanno giocando non benissimo Tiro in transizione da due Lati del campo mi sembra un po' indietro Come giocatore NBA Direi che il numero di errori tecnici su due lati Tinsley che raramente spinge alla massima velocità Però come vedete è abbastanza in grado Di portare la palla a spazio Vi assicuro che molti di quei 28 tiri Erano buoni tiri Bella palla di Foster Per il taglio di Tinsley Da tifoso NBA Per Foster Che comunque si è ritagliato Poi da giocatore il suo spazio E uno specialista Qua la zona colcede qualche tiro Questo è ancora Charles Bird Della squadra brasiliana Che ha giocato al McDonald's Ovviamente lui tripla Per Lui potevano dare qualche contentino Anche a lui E lui era fuori Il ritmo qua Qui deviazione di Hardaway Che permette a Novinsky Di ruotare E ancora una volta Il consueto Così tante cose sorprendenti A ricordare L'avete visto In panchina Isaiah Thomas Che fa parte Il tempo di piazzarsi Miller fa il cattivone Con Nash Crozier Manda a vuoto Novinsky Da solo Lappentemente Forse perché vogliono difendere Un pochino più a centro area Vedete che Miller Che ha cercato L'azione per l'indiano 123-122 Prima il canestro di Novinsky Era da due Il recupero di palla Per i Pacers Jalen Rose Per Travis Best Ovviamente da una ricezione Di Finley Fintato il raddoppio Che però non arriva Tinsley Questa volta Lavora da Che potete immaginare Ad est Ecco il lavoro Di Finley Che si sente Ovviamente spingere parecchio Sembra di chi se lo prendeva Dire partita finita Non me l'ha sentito Ogni volta Il primo passaggio Di questa zona L'uomo in punta E l'uomo 131 Però sono tanti Ancora una volta Tinsley avrebbe già Un tiro comodo No Ce n'è uno più comodo Da 3 di La maniera più assoluta Jamal Tinsley Riceve il passaggio di ritorno Potrebbe tirare Poi è solo al centro Dell'area Vuole passarla Comun Palleggio Per Travis Best Ancora questo attacco Che tutto è Tranne che NBA Un blocco di contenimento Per i blocchi Taglia Bender Basta anche un canestro Da due punti Per l'Indiana Payser Se si va Proprio da Bender Che tocca il tabellone La palla